Ci dedichiamo in questa conversazione al dolore pulvare dopo la menopausa e parliamo in particolare, lo approfondiamo molto bene sempre nel nostro libro di riferimento scritto col professor Murina, della sindrome genito-urinaria della menopausa, nome molto complesso, in termini semplici questa definizione sottolinea che cosa? Che dopo la menopausa le donne hanno tre e lamentano grandi gruppi di sintomi, innanzitutto i sintomi che riguardano per l'appunto i genitali esterni, quindi la vulva e la vagina, con quali caratteristiche? La secchezza, il bruciore, il prurito e le perdite vaginali. Secondo grande gruppo di sintomi riguardano la vescica, ecco che la donna lamenta inizio prima l'urgenza minzionale e poi l'incontinenza da urgenza, l'incontinenza da sforzo soprattutto se ha avuto bimbi per via vaginale, magari parti anche prolungati o bambini piuttosto di peso superiore ai 3,5-4 e le cestite recidivanti. Ma ancora importantissimi, in un mondo in cui la donna a 50 anni si sente, è giovane e ha desiderio di avere ancora una vita sessuale nei molti anni che l'aspettano dopo la menopausa, i sintomi sessuali. La secchezza, la mancanza di lubrificazione, il dolore proprio nei rapporti e la perdita del desiderio sessuale, che ha una grossa componente nella scomparsa degli estrogeni e del progesterone con la menopausa, un cofattore importante nella caduta dei livelli di pestosterone e di DEA, di deidropiandrosterone, dai 20 anni in poi, per cui noi abbiamo una perdita di desiderio che ha un nemico centrale, non ho più il drive che mi viene dagli ormoni, ma anche un fattore frenante genitale che sono la secchezza, la mancanza di lubrificazione e il dolore. Se noi medici vediamo, ma anche la donna con lo specchio si guarda, mi dice non mi posso guardare. Perché? Perché si sono assottigliate le labbra. Quella secchezza corrisponde a un assottigliamento a tutto spessore, pensate, non solo della cute, ma anche del sottocute, una riduzione dei basi sanguigni, una riduzione del mucopolisaccardi, cioè di quella componente della cute che dà la sofficità al tessuto. Ed ecco che abbiamo addirittura le lesioni da prurito, quella secchezza in particolare se è notturna, che ci deve far pensare a una complicanza, che è l'ichen sclerosus, che è una malattia autoimmune. E ancora, i peli pubblici sempre più radi e bianchi. Il clitoride che diventa sempre più piccolo e la donna dice, e lo vedremo, la mia sensibilità sessuale è ridotta, ma anche l'intensità del piacere. E ancora, l'atrofia riguarda anche la vagina, che è sempre più sottile, si taglia facilmente, ma ancora, il muscolo che chiude in basso la vagina presenta delle ulteriori modifiche. Perché senza ormoni sessuali, pensate, si riduce la componente muscolare, che tende anche a retrarsi, in particolare nelle donne che o non hanno avuto figli o non hanno avuto solo cesarei. Ecco che allora si restringe l'entrata vaginale perché il muscolo proprio si accorcia e aumenta il dolore ai rapporti. Nelle donne che invece hanno avuto parti per via vaginale, abbiamo un accentuarsi della vulnerabilità, non solo all'incontinenza, ma anche ai prolassi. Uno studio ancora del 99, ma importantissimo, ci ha fatto vedere che cosa? Che c'è una riduzione, uno studio anatomico, addirittura del 50% dei vasi, i corpi cavernosi, che sono necessari per la eccitazione sessuale. Pensate, dai 20 anni ai 50 abbiamo già perso il 50%. Questa alterazione anatomica un'altra volta sottende la sensazione corretta della donna che il piacere che lei prova all'eccitazione è molto ridotto. Dico subito che abbiamo delle terapie fantastiche, che sono poi le cure ormonali locali. Ma restiamo al fatto che quindi è un invecchiamento a tutto spessore, e di nuovo quindi che quello che noi vediamo, cioè l'atrofia mucosa, è solo la punta dell'iceberg di un invecchiamento che riguarda tutti i tessuti genitali a tutto spessore. In particolare, una cosa che può anche incuriosirvi, è che l'unico organo che ha molte rughe durante l'età fertile, l'età giovane, è la vagina. Perché questo? È la questione del plissè. Nelle gonne a plissè noi abbiamo tanto tessuto in poco spazio. Qual è la funzione delle rughe in vagina? Guardate, la natura è pazzesca. Di consentire non solo di adattarsi a dimensioni genitali diverse, ma soprattutto di consentire alla vagina di distendersi per far passare un bambino di 3, anche 4 kg. Ecco che quella elasticità è garantita dalle rughe, ruga E in latino. Bene, l'unico organo che perde le rughe con la menopausa è la vagina. Ecco che allora dovremo fare una terapia tempestiva, ormonale almeno locale, per garantire che queste rughe vengano mantenute perché ci possa essere un'abitabilità vaginale, un'elasticità, appropriate. E ancora, se andiamo a studiare la mucosa, vediamo un altro aspetto importante. Mentre nella donna giovane o comunque in età fertile fino ai 50 anni, anche i 55, nelle donne con menopausa tardiva, noi abbiamo una mucosa in cui tutte le celluline sono messe a strati, come un muretto morbido, elastico, paffuto diciamo noi. Ecco che dopo la menopausa queste cellule piano piano si sfaldano, scompaiono e restano uno strato sottile, basale, molto vulnerabile all'elacerazione. Ma non basta. Anche i vasi sanguigni, vi posso far vedere queste immagini meravigliose dal punto di vista istologico, grazie alla cortesia, per esempio, questo è il professor Shapsh, un urologo di New York, che me le ha date e ho richiesto l'autorizzazione proprio per questo, per condividerle con voi. Metto, ma certo Ale. Ecco, pensate, una varete vaginale ha questa ricchezza di vasi sanguigni. Senza ormoni, questi vasi si dice collabiscono, si chiudono, ed ecco che il tessuto diventa praticamente come un tessuto cicatriziale. Se invece noi garantiamo, grazie alla presenza degli ormoni, questa ricchezza di vasi, ecco che nel momento in cui la donna ha desiderio, in una frazione di secondo, questi vasi lasciano trasudare il liquido, il plasma, che dà luogo alla lubrificazione. Quindi garantire questa rete vascolare è fondamentale. E allora, che cosa possiamo dire? Che con questa menopausa noi abbiamo una lesione, in parte da perdita degli ormoni sessuali, estrogeni, progesteroni, in parte da età, certamente, in parte da perdita del testosterone, che porta a ridurre il desiderio e l'eccitazione, a dare secchezza, che è uno dei primi sintomi che le donne lamentano già nei primi 2-3 anni dopo la menopausa, dopodiché compare proprio il dolore. Abbiamo detto che il pavimento pelvico, a seconda che la donna abbia partorito meno per via vaginale, presenta due diversi tipi di modificazioni, ma entrambi meritevoli, non solo di terapia ormonale, ma anche, per esempio, di fisioterapia. Se è troppo contratta per rilassare, se è troppo lassa per tonificare, ecco la diagnosi corretta e importante, e ancora la possibilità che, dando di nuovo una risposta vitale, bella, una lubrificazione normale, un'abitabilità, le rughine tutte pronte a distendersi a moto, ecco che allora la donna può risperimentare una rinascita del desiderio, del piacere, della gioia, nell'intimità con il suo compagno o anche la sua compagna. La terapia ormoni, innanzitutto per tutte le donne in cui li possiamo usare, quindi gli estrogeni, il testosterone o il prasterone. Abbiamo poi terapie non ormonali per le donne che non desiderano gli ormoni o che non possono utilizzare gli ormoni, e qui è molto importante poter aiutare le donne, per esempio, che a causa di un tumore alla mammella, di un tumore all'endometrio, alle ovaie, o anche di un'anamisi di trombosi, non possono fare la terapia ormonale sostitutiva generale. Ecco che allora potremmo considerare l'importanza dei gel, per esempio, alla vitamina E, per esempio quella con la delmitrole e la quercetina, per correttezza ce ne sono molti, e ve ne illustro almeno qualcuno, ma interessante è anche questa new entry con la spermidina e l'acido ialuronico, perché la spermidina ha un'azione anti-age, anti-senescenza, molto interessante, è una molecola usata in moltissime discipline mediche, è presente nel nostro corpo, la possiamo ottenere sia per produzione endogena, sia per attraverso l'alimentazione, sia attraverso i farmaci, il concetto è che più noi invecchiamo, meno spermidina abbiamo nel nostro corpo, ecco che allora la ipotesi di lavoro è che è documentata naturalmente in ulteriori lavori, lo stiamo verificando anche a livello di laboratorio, proprio cosa succeda in tutte le cellule degli ostri genitali dopo la menopausa, ecco che potremmo vedere un'azione anti-senescenza specifica anche per quest'area. Ovviamente se la donna è in ipertono, il medico valuterà anche farmaci molto specifici come il diazepam e poi ci sono le terapie biofisiche, per esempio l'ossigenoterapia con l'acido ialuronico oppure la laser terapia, soprattutto di tipo rigenerativo. In altre parole, fare il vestitino su misura, come dico sempre, e quindi la competenza di un medico che si appassioni e che sia dedito proprio alla menopausa, la cura della menopausa, è quella di scegliere a seconda degli anni passati dalla menopausa, delle indicazioni o delle controindicazioni, delle esigenze, delle preferenze della donna, quel vestito su misura, locale o generale o entrambi, che consenta di ridare a quei tessuti quella giovinezza, quella freschezza, quella vitalità e anche quella felicità nell'intimità che è possibile avere nel 2024. Gustiamoci ad affondo. Le vostre domande. Ho 54 anni, sono in menopausa da 3 anni, non ho figli. L'anno scorso sono stata operata per un piccolo tumore alla mammella e non posso fare ormoni. Da 3 mesi ho un nuovo compagno, ma i rapporti sono impossibili. Per il dolore, sono chiusa, mi sembra di avere un muro e sono disperata. E è facile capire questo dolore perché nel momento in cui l'amore ci ridà speranza in una situazione così difficile come quella di un tumore al seno che tra l'altro colpisce proprio al cuore la femminilità, ecco che confrontarsi con un dolore lacerante può essere momento di disperazione. Ecco che allora di nuovo la diagnosi è accurata. Innanzitutto, non ha avuto figli, subito l'ipertono del pavimento pelvico, rilassare quel pavimento pelvico con fisioterapia adeguata. Il diazepam ti aiuta moltissimo. Io insegno a tutte queste signore gli esercizi da fare a casa per potenziare ulteriormente la capacità di rilassarsi. Se il partner è motivato e la signora fa piacere, insegno anche al partner, come dico, fare l'assistente alla terapia, ossia fare questo stretch gentile come preliminare che consente poi alla donna di avere un rilassamento e quindi non solo di non avere dolore, ma sapere che entrambi sanno perché ha dolore e lo possono modificare. Ecco l'importanza anche di gel locali, all'acido ialuronico, di vitamina E, tutta quella che volete mettere, ma anche il possibile ruolo di nuovi gel che ci consentano magari con la spermidina e l'acido ialuronico di ottimizzare e rallentare l'invecchiamento delle cellule e dei tessuti causato dalla carenza di ormoni sessuali. Ovviamente anche ossigenoterapia o laser terapia sempre per dare ad ogni donna quello che la può aiutare di più e persistentemente. Altra domanda, 58 anni, meno pausa da 6, ho prurito genitale, soprattutto di notte, mi hanno diagnosticato il lichen sclerose vulvare e sono molto spaventata perché ho letto cose tremente. Cosa posso fare? Innanzitutto, diciamolo chiaramente, è una malattia autoimmune che però si può curare bene. Abbiamo due grandi presidi, in acuto, cioè quando la signora ha un prurito devastante, soprattutto di notte, il cortisone lo cade a breve termine perché il cortisone è un ottimo pompiere ma nel medio termine è un distruttore. Quindi sediamo l'incendio e poi ecco che il testosterone locale è un eccellente antinfiammatorio, è il miglior pompiere biologico che possiamo mettere ma anche, differentemente dal cortisone, è un eccellente ricostruttore. Ecco che allora anche a questa signora una terapia appropriata con una diagnosi appropriata consentirà di controllare perfettamente la malattia, ripristinare, entro certi limiti, tessuti più sani e soprattutto riconsentirle di dormire serena perché il prurito che ci dice che la malattia è attiva è stato silenziato. Allora, vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi suggerisco di approfondire questi temi se vi fa piacere sul sito personale, il sito della fondazione e vi aspetto per altri approfondimenti e nuovi temi lunedì prossimo. Grazie ancora e a presto.